Ciao a tutti amici di Marina Romea Tennis e questa sera voglio presentarvi la nuova arrivata qui a Marina Romea, la nuova macchina lanciapalle Dragonet, un attrezzo straordinario che io ho già iniziato a usare qui nel mio centro tennis, quindi mi vedrete nelle immagini successive eseguire alcuni allenamenti, quindi alcuni esercizi, ma vedrete anche dei miei allievi sia principianti che agonisti utilizzarla. Non posso che dalle prime impressioni parlarne che bene, quindi vi invito anche se volete saperne di più a cliccare la scheda che vedete qui comparire qui in alto a destra, entrerete sul canale di Dragonet dove potete in questo modo capirne di più sulla macchina stessa. Mi vedrete comunque anche nei prossimi giorni utilizzare la macchina Dragonet sul campo, quindi durante i miei stage di tennis o anche durante le mie dirette su YouTube per poter in questo modo riuscire a darvi dei consigli e a dimostrarvi il colpo stesso. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere il like e ad iscrivervi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, questo per supportare il mio canale e avere dei contenuti video sempre di migliore qualità. Attivate anche la campanella al momento dell'iscrizione per ricevere le notifiche delle mie prossime uscite video sia in differita che in diretta. Al prossimo video vi aspetto loro bene. iscriviti al canale.